Col direttore sportivo Paolo Del Corso dopo un'estate fatta di grandi colpi con il botto finale di Iuri Andreotti 90 minuti che hanno racchiuso tutta l'estate, una sofferenza al novantesimo col gol di Frazzi Vabbè questo è il campionato, il calcio estivo è bello, è bello il precampionato, è bello la campagna acquisti tutto fatto bene e poi viene fuori il calcio